Crea un nuovo progetto e accedi all'editor BIM. Utilizzi l'oggetto ingombro, per modellare il terrazzo piano. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info.it Personalizzi la superficie con i materiali della libreria. Individui il campo fotovoltaico e lo progetti con l'aiuto del wizard. Inclini ed orienti i moduli per ottenere il massimo rendimento. Colleghi all'impianto, l'inverter compatibile. Assegni il quadro generale e i quadri in AC e DC. Generi sezioni, piante e prospetti. Esci e continui con l'analisi economica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.